buongiorno a tutti da parte di Enrico Lanati del sito investire.biz oggi parliamo di certificati e lo facciamo in compagnia di Societe Generale che è uno dei più importanti emittenti sul mercato italiano come sapete noi seguiamo una rubrica che si occupa di andare a vedere quali sono le opportunità sui certificati stay up stay down o sui certificati corridor di fatto la differenza è che il corridor ha due barriere una superiore e una inferiore lo stay up o stay down ha solo una delle due barriere o superiore o inferiore tra i prodotti in quotazione ne abbiamo trovati due che sono particolarmente attrattivi però prima vi voglio dare due o tre informazioni relative a questi prodotti per farvi capire bene come funzionano sono prodotti che hanno appunto due barriere una superiore e una inferiore nel caso in cui una di queste barriere fosse colpita dal sottostante il certificato annullerebbe il suo valore quindi questi certificati vanno da 0 come valore minimo fino a un massimo di 10 euro 10 euro è il valore di rimborso nel caso in cui invece queste barriere non fossero violate da qui alla scadenza le scadenze come potete notare trimestrali semestrali insomma abbiamo delle scadenze a settembre abbiamo delle scadenze verso la fine di dicembre come potete notare io ho indicato o diciamo messo in ordine i certificati per il prezzo lettera in modo tale da poter individuare quelle che fossero delle occasioni cioè sostanzialmente dei certificati vicini alla barriera che però avessero un prezzo molto basso in questo caso riesco ad ottenere dei rapporti rischio rendimento favorevoli e così trovo delle migliori opportunità di trading il primo certificato che ho selezionato per voi è questo su FCA Fiat Chrysler mi piace molto in quanto come potete notare ha un rendimento potenziale abbastanza rilevante e ci troviamo in un'area molto molto interessante quindi giusto per capire quello che è la struttura di questo certificato vedete abbiamo una barriera superiore e una barriera inferiore il titolo Fiat che è quello che vedete qui ha avuto un movimento rialzista molto molto importante tant'è vero che questo certificato in questa situazione ha un prezzo abbastanza basso eppure il mercato dell'auto in questo momento secondo me è uno dei settori che si trova in maggiore difficoltà la barriera sappiamo che è circa il 10% dei prezzi attuali io ritengo che sia difficile dopo che Fiat ha fatto una corsa dai 5,60 euro circa fino ai 9,40 euro che possa continuare appunto a crescere con tutta questa forza quindi questa è la mia strategia vi ho messo anche una linea in verde che è una linea di equilibrio si trova equidistante dai due livelli di barriera ed è secondo me il livello al quale dovremmo andare a chiudere la posizione nel senso che se noi dovessimo entrare su questi livelli appunto sul certificato e Fiat dovesse tornare in un intorno di 7 euro probabilmente il nostro certificato sarà arrivato almeno a 8 euro 8,50 euro che è una valutazione molto molto buona molto molto alta rispetto ai prezzi acquistati a quel punto secondo me si potrebbe valutare di liquidare la posizione quindi diciamo che questa linea mediana che ho disegnato serve proprio per valutare quello che è la nostra uscita anche perché se poi Fiat dovesse continuare a scendere il certificato ricomincerebbe a perdere valore a questo punto torniamo sulla selezione appunto di prodotti vi faccio vedere un altro certificato che ho selezionato per voi vedete sul Futsimib ce ne sono due se ci fate caso questo strumento che sto selezionando in questo momento ha una quotazione più alta rispetto al prodotto fratello della linea superiore quindi ha una quotazione simile o comunque leggermente più alta stiamo parlando di un centesimo però quello che voglio farvi notare è che sostanzialmente le barriere di questo certificato quello con ISIN che finisce con 6,88 sono più larghe rispetto a quelle del Futsimib con ISIN 332 questo da che cosa dipende? dipende sostanzialmente dalla scadenza ma visto che a noi la scadenza in questo momento non ci interessa perché ci interessa sostanzialmente la barriera superiore andiamo a preferire questo certificato quindi il primo LU 208 78 30 688 ovviamente trovate tutto all'interno della descrizione dell'articolo andando sul grafico potete notare che anche in questo caso la barriera inferiore non ci interessa il discorso è analogo a quello che abbiamo visto precedentemente siamo convinti che ci possa essere uno storno dai livelli attuali appunto del Futsimib o che comunque non possa raggiungere nel brevissimo i 22.000 punti siamo a circa 1.800 punti di distanza quindi circa un 10% anche in questo caso ecco come detto nel certificato per il certificato precedente anche qui la situazione è interessante perché andrei a liquidare la posizione qualora il mercato dovesse tornare in area 17.500 perché qui come potete vedere ci troviamo in equilibrio e probabilmente il certificato ha massimizzato quello che è il suo rendimento atteso se vogliamo andare a dare un'occhiata appunto a questo prodotto vediamo quelli che sono i dati fondamentali quello che vi esorto a vedere è che appunto c'è un rendimento a scadenza potenziale del 182% non faremo tutto perché ovviamente chiuderemo la posizione prima della scadenza è una distanza appunto dai livelli superiori di appunto di circa il 10% diciamo prima in realtà l'8,79 in questo momento si compra 3,68 euro col passare del tempo se non fosse raggiunto appunto il livello di 22.000 punti questo certificato si apprezzerebbe fino ai 10 euro da parte di Enrico Lanati per oggi è tutto io spero di avervi dato quante più informazioni possibili su questi prodotti ovviamente andando nell'articolo dedicato troverete i codici ISIN e delle spiegazioni relative a queste operazioni buona giornata e buon trading a tutti